Nelle ultime 24 ore sono aumentati i numeri dei contagi nell'agro nocerino e lo scenario è estremamente delicato. Scafati e Dangri registrano un incremento dei contagi e superano la città capoluogo. A Scafati sono stati riscontrati 43 nuovi positivi al Covid-19, 37 ad Angri, mentre Salerno ne riporta 34. I dati dell'unità di crisi della Regione Campania confermano dunque l'evolversi della curva epidemiologica nell'area nord della provincia. Sale il numero dei positivi anche a Nocera Inferiore, ieri erano 28 i nuovi contagi. Rocca Piemonte 14, 12 a San Valentino Torio, va meglio a Nocera Superiore con 10 casi così come a Pagani. Poi 9 a Sarno, 6 a San Marzano sul Sarno, 3 a Sant'Egidio del Montalbino, 1 a Corbara. Covid-free a Castel San Giorgio, Bracigliano e Siano. Anche Vietri sul mare non riporta nuovi casi di coronavirus. A Cava dei Tirreni è emerso un solo tampone positivo. Nella Valle dell'Irno l'unità regionale ha riscontrato due positivi, tutti a Mercato San Severino. Nessun contagio a Baronissi e Fisciano. In Campania si registrano intanto 1.202 nuovi positivi, di questi in 75 hanno manifestato sintomi. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 11.097. La percentuale tamponi in rapporto ai positivi è al 10,8%. Ieri il rapporto era 8,2%. Sono 1.223 le guarigioni nelle ultime 24 ore, 21 i docessi riportati dal bollettino. Aumenta il numero dei ricoveri in terapia intensiva, 125 sono i posti occupati.